Ciao a tutti ragazzi, sono JigTree e rieccoci in questo video di Minecraft siamo nel Lungergame e ho fatto a te un con da Superfire Ciao a tutti, la visuale dell'Hungergame la potete trovare anche sul mio canale che ha il link in descrizione Ok e andiamo veloce, corri, Lorenzo da Superfire, vabbè, cominciamo Vabbè, mi chiamo Lorenzo perché non l'aveste capito dopo mille peripezie Prendi la renna? no, anche in legna, uccidiamo e comunque ho fame e comunque non si carica la mappa e comunque ti si bloccato lo so che se no sto momenti di panico temporaneo uh, sta laggando cazzo, ho finito aiuto, vabbè, sto prendi me sta laggando la laggata temporanea uccidiamo, uccidiamo se vedete la Nodus è perché ho Nodus però non la uso, era soltanto per il radar eccolo Jack vedo che questo video non lo caricherò mai è tutto incantato come è tutto incantato quasi tutto quasi tutto non sto uccidendo, non sto Assassin santa pace la maglia di maglia poi l'almetto di duro e le scarpe di pelle vabbè mi chiamano e il mio amico è uscito la chiamata vabbè vediamo chi siamo rimasti andiamo alla ricerca di alberta non è crashata chiamata ah non si è crashata vabbè continui a parlare o chiudi ah no si è mutato a parlare per sempre disattiva il microfono per farti concentrare nella partita ah ok ma non si carica la mappa beh continui mi trovo nella foresta il primo più brutto secondo me mi voglio io le blaze le blaze rod se non sbaglio si dicono così dove sta vieni qua bastardo oh 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 a morire si sta perdendo il controllo muore si stanno uccidendo ah ma dove sta l'uno ho ucciso uno mollo oh quest'altro qua ma sto morendo sto morendo sono morto si morire vabbè dispera perché ti fa fastidio si mi mori vabbè per questo video è tutto ciao a tutti ciao